Con il 53,88% si riconferma la guida del suo paese, Ripa Bottoni, a poche ore dalla sua proclamazione. Quali sono le sensazioni? Guarda, sicuramente non può far che piacere continuare un percorso iniziato cinque anni fa. Credo di aver lavorato bene e la mia amministrazione a fianco a me ha dato tanto in questi anni per far sì che in questo piccolo centro si portasse avanti tutto il percorso della ricostruzione, tutti i lavori avviati per quanto riguarda la viabilità e altro. Credo che la popolazione ha dato ragione a questo lavoro svolto in questi anni. Con un percorso già avviato, lo diceva anche lei poc'anzi, ma sicuramente in cantiere ci sono tanti altri progetti? Sì, sicuramente, oltre che bisogna portare avanti ancora il discorso della ricostruzione, ma ci vogliamo basare anche per quanto riguarda il turismo, perché abbiamo delle comunità anche svedesi, danesi, olandesi che stanno venendo in questo piccolo centro e dobbiamo essere bravi ancora a portare queste comunità all'interno del nostro paese. Le parlava della ricostruzione post-sisma, parliamo ovviamente del terremoto che colpì San Giuliano di Puglia e quindi vari centri limitrofi. A che punto è la ricostruzione qui a Ripa Bottoni? Allora, la ricostruzione di Ripa Bottoni è all'85-90%, quindi i lavori sono quasi terminati, sono tutti IPEU, con le cosiddette abitazioni, quindi del centro abitato. Però non nascondo che, insomma, abbiamo anche un ricorso in atto al Consiglio di Stato contro la Regione, perché dei IPEU erano stati non inseriti nelle graduatorie e quindi aspettiamo anche questa ultima sentenza per poi pianificare un lavoro eventualmente nei prossimi anni.